Spero che la Foggia come città, la Foggia come società, ritornerà. Lui dice che è impossibile, io dico che si può fare tutto quando si trovano in condizioni giusti. Ma ci sarà ancora Gemma Landri? Io l'auguro, l'auguro non per me ma per Foggia. Qualcuno parla troppo, ma non dice quello che c'è. A che cosa serve? A che cosa serve? A che cosa serve? A che cosa serve? Serve fare calcio sul serio e con un impegno. Se basterebbe che Albi ci lavare i gol realmente e poi se risolviamo qualche cosa in più, nonostante i problemi di titolo. Mi hanno dato grossa soddisfazione a me, poi per gli altri, poi lo so. Grazie. 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 Grazie.